Nella seduta di Question Time, prevista per oggi, 30 maggio, ad Agropoli, si discuterà sui lavori di ripascimento con un mezzo meccanico sul litorale della Baia di Trentova, avviati qualche settimana fa e apparentemente senza autorizzazione. L'interrogazione è rivolta dal consigliere consolato Natalino Caccamo all'assessore Aldemanio Eugenio Benevento. Caccamo aveva denunciato anche l'accaduto sui social. La consigliera Maristella Buonora invece interrogerà l'assessore al bilancio Roberto Mutalipassi sulla fornitura e l'installazione di arredi urbani del tipo Smart City e sul regolamento compensazione crediti e debiti, approvato il 16 ottobre 2018. Nessun'altra interrogazione pervenuta dai consiglieri di minoranza, abate e botticchio, che avrebbero potuto accrescere l'interesse dei cittadini con questo importante strumento di discussione quale è il Question Time. La seduta, come da regolamento, non potrà durare oltre le due ore di tempo, ma viste le poche richieste, molto probabilmente durerà 30 minuti. Il Question Time sarà ripreso in diretta dall'emittente televisiva Cilento Channel a partire dalle ore 18.